Esultano Umberto Carriera e Clarissa Rosselli all'uscita del Tribunale di Pesaro. Questa mattina il giudice Pier Santelli ha assolto entrambi per i capi di imputazione relativi alla pubblicazione del video, carpito in maniera fraudolenta attraverso il quale i due documentarono l'azione di diversi agenti di polizia all'interno del locale La Grande Bellezza di Monbaroccio il 15 gennaio del 2021. Ovvero il locale gestito da Carriera che il ristoratore decise di tenere aperto in quell'occasione contravvenendo ai DPCM imposti dal governo Conte in piena epoca di limitazione anti-Covid. Il video in questione documentò gli agenti nell'atto di combinare la multa al locale e sospenderlo dall'attività per cinque giorni. Un video che fu pubblicato sui social producendo una pioggia di ingiuri alla polizia e portando il capo della stessa polizia Paolo Badioli e gli stessi sindacati di categoria ad avviare un processo per diffamazione. Reato di diffamazione dal quale oggi è stata assolta Clarissa Rosselli. Diffamazione alla quale è stato invece condannato Umberto Carriera ma con pena di fatto esigua rispetto alle richieste iniziali. 200 euro di multa appena sospesa e risarcimento di 3.000 euro per Badioli e 500 euro per ciascuno dei tre sindacati coinvolti a fronte dei 63.000 euro che erano stati richiesti. L'avvocato difensore di Carriera Federico Bertuccioli ha esternato soddisfazione per la sentenza ma farà ricorso in appello contro le condanne a diffamazione.